L'idea innovativa di Stupor Circus, il Festival Internazionale di Circo Contemporaneo, viene riconfermata per il terzo anno consecutivo dal Comune di Pesaro, che in collaborazione con Amat e Circo il Grito, darà vita a nove appuntamenti che uniranno circo, musica e letteratura. L'evento, intitolato Suerte, si svolgerà dal 5 all'8 e dal 18 al 22 di agosto, dove, rispetto alla scorsa edizione, si svolgerà all'interno degli Orti Giuli. Un esperimento circense dove la buona riuscita del movimento tecnico dell'artista sarà influenzata dagli spettatori che, con le loro scelte, potranno dar vita a delle performance esclusive. Il Festival, in collaborazione con il Conservatorio Rossini, coinvolgerà due violinisti di assoluto valore che accompagneranno le esibizioni degli acrobati. Scopriamo un'altra parte della città, un'altra parte che può avere una vocazione di spettacolo anche abbastanza inattesa, anche se è un luogo in cui gli amici, ad esempio, del Festival Zoo e così hanno usato spesso. Devo dire, ha colpito subito la nostra direzione artistica, la direzione artistica che è quella del Circo Il Grito, che da tre anni con noi fa dei progetti, devo dire, amatissimi. Noi non immaginavamo che la città potesse rispondere in questi termini. Infatti quest'anno, insomma, invitiamo tutti subito a comprare il biglietto perché questo esperimento esclusivo che trasformerà gli Orti Giuli in una sorta di tendone a cielo aperto. Davvero si annuncia come un evento davvero eccezionale. È il momento in cui l'arte dello spettacolo dal vivo si concentra sul circo e completa in qualche modo la proposta che Pesaro, città della musica, ma anche città del teatro, città della lirica, città di Rossini. Un tassello che mancava e che abbiamo sanato tre anni fa, ma devo dire ogni anno ci riserva delle sorprese davvero sempre più interessanti. Siamo molto felici che Stupor Circus, con il circo Grito, che ha avuto già due anni fa un grandissimo successo al Parco Miralfiore, con 20 date che poi in corsa si sono trasformate in quasi 50, appunto per le richieste del pubblico. Quest'anno non si monta lo sciapito da circo a cui eravamo abituati, magari in futuro per festival anche più articolati che si potranno realizzare, ma crediamo che la riscoperta anche in questa chiave degli orti giuli nel mese d'agosto possa essere una novità apprezzata e anche una situazione magica da proporre ai pesaresi e ai turisti. Entreremo negli orti giuli e lì invadiamo il parco con il circo, il circo contemporaneo, per cui porteremo ancora una volta la nostra idea di circo, che è un'idea di circo che si combina con quella di musica, con quella di teatro, con quella di letteratura e al parco questa volta ci siamo chiesti come il fato interviene sulle nostre vite, sulle nostre vite di circensi, per cui nel momento in cui fai un salto mortale, cos'è che ne determina la buona riuscita? Solo l'allenamento, solo la scelta del giusto movimento tecnico o c'è anche qualcos'altro e ci siamo chiesti come può il fato, il destino, la fatalità di uno spettatore intervenire su quella del Circenze e quindi abbiamo messo in atto dei meccanismi piuttosto pericolosi per andare a sperimentare su questo meccanismo.